Ciao! Oggi parleremo di un servizio che ci permette di caricare i nostri page e condividerli su maggiori social. Allora, andiamo sul sito embed.openpage.it, clicchiamo sul tasto Upload ed inseriamo il nostro page. Utilizzeremo questo page per la nostra dimostrazione. È un page valido e viene appato. Può essere condiviso tramite Twitter, Facebook oppure codice embed. Noi utilizziamo Twitter, twittiamo, già è precompilato tutto, guardiamo il tweet e vediamo come effettivamente viene formattato. Abbiamo la nostra descrizione e la nostra immagine. Questo processo è molto simile anche per la condivisione su Facebook e quindi non lo tratteremo. Un altro modo per condividere è quello di utilizzare il codice embed. Questo codice, copiamolo e lo possiamo inserire in un nostro blog o forum. Modifichiamo il nostro articolo e possiamo inserire sempre comunque cliccando sull'HTML il nostro codice embed. Una volta inserito, aggiorniamo la pagina e vediamo. Visualizziamo il nostro risultato e vediamo se effettivamente viene condiviso. Il nostro page è condiviso. Cliccando andiamo sicuramente sul nostro servizio appena utilizzato. Quindi c'è il link di ritorno. Questi sono più o meno i modi per condividere il nostro page. Adesso possiamo fare una prova e testare il servizio. Usiamo sempre questo page che abbiamo appena inserito e lo apriamo con questo programma. Adesso modificheremo l'UED. Allora clicchiamo qui e possiamo inserire modificandolo in numeretto. E ci mettiamo qui un altro numeretto e un set. Perfetto. Una volta modificato lo salviamo come un fake. Ci mettiamo fake2ui. Salviamolo. Chiudiamo tutto. E cerchiamo di apparlo. Vediamo che cosa succede. E' effettivamente il nostro servizio dice che c'è un errore. Questo è più o meno quello che volevamo mostrarvi del servizio embed. Con questa è finita la guida. Buona giornata e arrivederci.